Ad inizio film vediamo un paio di ragazzi incappucciati all'interno di un appartamento di lusso. I due stanno ultimando un graffito su un muro, utilizzando una frase che nell'ambiente della street art ha dato loro una certa popolarità. Toby e Jay sono due giovani artisti che si intrufolano nelle case dei ricchi per lasciare loro un semplice messaggio. Anche se hai un sacco di soldi non puoi mai stare davvero tranquillo. Quella sera, dopo essere usciti dall'appartamento senza intoppi, i due si separano. Poco dopo vediamo Toby rientrare a casa cercando di non svegliare la madre e una volta in camera si stende a letto visibilmente compiaciuto per averla fatta franca anche quella sera. Il giorno successivo vediamo Jay mentre taglia le fronde di un albero nel giardino di una villa. Il suo lavoro permette a lui e Toby di individuare nuove potenziali case per i loro graffiti. Con la scusa di dover andare in bagno, Jay entra dentro la casa e si affretta a recuperare informazioni sul proprietario. Individuato il modem, scatta una foto ai dati del wifi e la invia al suo compare. Proprio in quel momento Sir Hector Blake entra nella stanza e chiede a Jay se abbia bisogno di qualcosa. Jay, facendo finta di nulla, si fa indicare il bagno, complimentandosi con Hector per il tratto del padre. Toby, nel frattempo, inizia a fare delle ricerche. Tornato a casa, Jay mostra alla sua ragazza la villa di Hector, scherzando sul fatto che un giorno se la potranno permettere anche loro. Nez riconosce il nome dell'uomo e rivela a Jay che Sir Hector è un ex giudice ed è famoso per il suo impegno nell'aiutare i rifugiati. Più tardi, Jay si incontra con Toby, che è eccitato per le cose che ha scoperto sull'ex giudice. A quanto pare, la sua famiglia supporta da sempre il colonialismo, e anche il padre, quando era ancora in vita, ne era un forte sostenitore. Jay lo assicura che l'ex giudice ha la reputazione di un santo, ma Toby è convinto che quella sia solo una facciata per sviare l'attenzione. Ad ogni modo, Jay rivela all'amico che la sua compagna ora è incinta, e aspettando un figlio non può rischiare di finire nei guai. Per questo motivo dice a Toby che d'ora in avanti non potrà più dargli una mano. A distanza di qualche giorno, vediamo che Toby ha continuato a studiare le abitudini dell'ex giudice, e quella sera è finalmente pronto per andare a colpire. Mentre esce di casa, incrocia sua madre Lizzie, che nel frattempo è tornata da lavoro. Prima di uscire, gli chiede di ripulire la cucina, ma Toby le risponde che non ha tempo e che lo farà quando torna. Quella sera, mentre Hector esce di casa per andare a giocare a squash, Toby è appostatoli vicino, pronto ad approfittare del momento. Dopo essersi avvicinato alla proprietà, utilizza i dati del wifi per disabilitare la rete e il sistema di sicurezza ad essa collegato. Una volta dentro, si mette alla ricerca di un muro adatto per il graffito. Mentre sposta il retratto del padre di Hector, sente un rumore metallico provenire da dentro la casa. Incuriosito, decide di andare a controllare, e una volta sceso nel semi interrato, scopre che c'è una porta segreta nascosta dietro una scaffalatura. Nel frattempo, Hector riceve una notifica sul sistema di sicurezza disattivato, e William, essendo il capo del dipartimento di polizia, si offre di mandare un paio di agenti. Tuttavia, Hector gli dice che non serve, perché probabilmente è solo un falso allarme. Nel semi interrato, dopo aver spostato la scaffalatura, Toby guarda attraverso lo spioncino, e inorridito da quello che vede dentro, cade indietro terrorizzato. Proprio in quel momento, Hector rientra a casa. Dopo aver repristinato il sistema di sicurezza, dà una veloce occhiata in giro e si precipita giù nel semi interrato. Non trovando niente di strano, torna di sopra per informare William del falso allarme. Toby approfitta di quel momento per uscire rapidamente di casa. Hector, sentendo dei rumori, si precipita alla porta a controllare, ma non si accorge di Toby che nel frattempo è riuscito a nascondersi dietro la siepe. Più tardi, tornando a casa, Jay e Ness trovano Toby sconvolto di fronte alla loro porta. Toby racconta a Jay di essere entrato nella casa dell'ex giudice, ma prima di poter aggiungere altro, Jay lo interrompe. Essendo un momento delicato della sua vita, gli chiede di lasciarlo fuori da qualsiasi guaio si sia andato a cacciare. Tornando a casa, Toby si ferma ad un telefono pubblico per chiamare la polizia e riportare quanto ha visto. La mattina seguente, mentre Hector fa colazione, vediamo che alza il volume del televisore per coprire i rumori provenienti dal semi interrato. All'improvviso, la polizia bussa alla porta. Dopo averlo informato della telefonata anonima, gli chiedono di poter condurre una perquisizione della casa. Prima che possano scendere nel semi interrato, Hector intimidisce gli ufficiali dicendo loro che William sarà informato di come i suoi agenti siano così zelanti nel verificare gli scherzi telefonici. Gli agenti quindi danno solo una veloce occhiata senza scendere, e non vedendo niente di sospetto lasciano la proprietà. Mentre vediamo Toby frustrato nell'apprendere che la polizia non ha trovato nulla, Hector nota il quadro del padre leggermente spostato, e capisce che effettivamente qualcuno è stato lì. Tornato a casa, Toby è ancora visibilmente scosso, e poco dopo, esausto per essere rimasto fuori di casa dalla sera prima, si addormenta. Più tardi viene svegliato dalla madre, che è infuriata con lui per non aver sistemato la cucina, e più in generale per il suo sregolato stile di vita. Mentre sta per uscire, Lizzie, vista la sua mancanza di rispetto, gli strappa le chiavi di casa dalle mani. La discussione degenera velocemente, e quando Toby le fa notare che è solo grazie al padre defunto se hanno almeno quella casa, la madre lo schiaffeggia. Infuriato, Toby esce di casa dicendole di non aspettarlo. Il ragazzo si dirige nuovamente a casa di Hector, ma questa volta vediamo che l'ex giudice è pronto ad aspettarlo. Dopo aver fatto finta di uscire di casa, attende lì vicino, seduto in macchina. Raggiunto il seminterrato, Toby si affretta ad aprire la porta segreta. All'interno trova un ragazzo terrorizzato ranecchiato sopra un materasso. Toby prova a tranquillizzarlo dicendogli di essere lì per aiutarlo a scappare. Tuttavia, non appena salgono le scale, si accorgono che Hector sta rientrando a casa, e sono costretti a tornare di sotto. Mentre Toby è nascosto in un armadietto, Hector inizia a scendere le scale con in mano una mazza da cricket. Dopo aver dato una rapida occhiata in giro, va a controllare la stanza del prigioniero, lamentandosi con lui per essersela fatta di nuovo addosso. Approfittando del momento, Toby afferra un martello con l'intenzione di affrontare Hector, ma una volta entrato nella stanza segreta, scivola sull'orina del ragazzo. Hector, dopo un primo momento di shock, si avvicina a Toby tramortendolo con la mazza. Nella scena successiva, vediamo che l'uomo mette Toby e qualsiasi cosa sporca di sangue all'interno di un inceneritore, e in seguito getta via tutto nel water. Dopo un paio di giorni, Lizzie, preoccupata dalla scomparsa del figlio, chiama la polizia e avverte anche il suo migliore amico Jay. Durante il colloquio, la detective chiede al ragazzo quando è l'ultima volta che ha sentito Toby, ma Jay risponde che sono mesi che non ha notizie di lui. Lizzie sospetta che in realtà Jay sappia qualcosa, ma anche dopo essere rimasti da soli, il ragazzo continua a dire di non sapere nulla. Più tardi, Jay prova a chiamare Toby, ma ovviamente non riceve alcuna risposta. In seguito, si reca a casa di Hector, e dopo aver aperto la cassetta della posta, ruba una lettera indirizzata all'ex giudice dalla sua vecchia scuola. Ancora in dormiveglia, Lizzie sente dei rumori in casa, e si precipita nella stanza del figlio nella speranza che sia tornato. Tuttavia, l'entusiasmo della donna scompare quando trova Jay in camera sua. Il ragazzo le spiega che voleva controllare il cassetto segreto di Toby nella speranza di trovare qualche tipo di indizio sulla sua scomparsa. L'intento di Jay in realtà era quello di farle trovare la lettera indirizzata all'ex giudice. Il giorno seguente, la donna porta la lettera alla polizia, e nota che la detective Ella sembra essere particolarmente incuriosita dalla cosa. Tuttavia, la detective si limita a ringraziarla e la congeda dicendole che la terrà informata. Ella, facendo controllare il telefono di Toby, scopre che la sua ultima posizione era allo stesso indirizzo della casa di Hector, e inizia a sospettare che la chiamata anonima ricevuta pochi giorni prima sia stata effettuata dallo stesso Toby. Anche Lizzie inizia un po' alla volta a mettere insieme i pezzi, e nel frattempo la polizia organizza un'altra perquisizione a casa dell'ex giudice. Questa volta gli agenti scendono anche nel semi interrato, e dopo una curata per l'ustrazione scoprono la stanza segreta. Tuttavia, non trovano nient'altro che una stanza antipanico, piena di provviste e bene di prima necessità. Ella nota però una cosa strana, e cioè che lo spioncino della porta, anziché guardare verso l'esterno, guarda verso l'interno. Quando poi chiede spiegazioni a Hector, l'uomo accosta velocemente la porta, sussurrandole che la faceva più intelligente. Ella lo arresta immediatamente. Usciti all'esterno della casa, mentre Hector viene messo in macchina, nota una donna che sta osservando tutta la scena. In breve tempo, grazie alle sue conoscenze all'interno del dipartimento, l'ex giudice viene rilasciato per mancanza di prove, e Lizzie viene informata dalla detective che il caso è stato chiuso. Poco tempo dopo, Hector fa la conoscenza di Omid, rifugiato iraniano che ha trovato lavoro in un centro benessere. Mentre si fa massaggiare, lo convince di andare a trovarlo dopo lavoro, con il pretesto di assisterlo con la sua domanda di asilo. Quando più tardi Omid arriva alla villa, vediamo che Lizzie è seduta in macchina lì vicino che controlla l'ingresso. Una volta dentro, Hector offre qualcosa da bere a Omid, invitandolo a mettere della musica di suo gradimento. I due iniziano a chiacchierare del più e del meno, ma dopo pochi minuti Omid inizia a sentire gli effetti della droga aggiunti nel suo bicchiere, e chiede di andare in bagno. Tornato in corridoio, la sua vista è sempre più offuscata, ed Hector lo aiuta a sedersi sul divano. Omid, rendendosi conto di quello che sta succedendo, prova a scappare, e riesce a lanciarsi fuori dalla finestra. Fortunatamente per lui, Lizzie osserva tutta la scena, e utilizza gli abbaglianti della macchina per farsi notare, impedendo così ad Hector di poterlo inseguire. Il giorno seguente, Jay fa visita a Lizzie, e scopre che la donna è sempre più ossessionata dal cercare di capire il ruolo di Hector nella scomparsa del figlio. Lizzie rivela a Jay quello che è successo la notte prima, e raccontandogli la storia di Omid è sempre più certa che l'ex giudice sia direttamente coinvolto. Quando Jay le chiede perché non siano andati alla polizia, Lizzie gli spiega che Omid, essendo un rifugiato, ha paura a parlare per le potenziali ripercussioni. Hector nel frattempo intercetta Omid, e lo costringe a salire in macchina minacciandolo di sabotare la sua domanda di asilo. Nella scena successiva, mentre vediamo Hector seduto nel semi interrato a petto nudo, capiamo che il povero Omid ha fatto la stessa fine di Toby. Mentre controlla i messaggi nel telefono di Omid, trova il nome di Lizzie, e dopo una veloce ricerca scopre che è la madre di Toby. Lizzie trova una chiavetta USB con all'interno delle foto, e capisce che Jay le sta chiaramente tenendo nascosto qualcosa, in quanto erano proprio lui e suo figlio a intrufolarsi nelle case di lusso per fare quei graffiti. Volendo scoprire la verità a tutti i costi, prega Jay di darle una mano a entrare dentro la casa di Hector. Nonostante la disperata richiesta di aiuto, però, Jay le dice che non se la sente di rischiare. Nel frattempo, consapevole dei sempre più frequenti appostamenti della donna, Hector nasconde un mazzo di chiavi assicurandosi di essere visto. Lizzie cade nella sua trappola, e si intrufola da sola nella casa di Hector. La donna prova in tutti i modi a scappare, ma proprio nel momento in cui riesce ad aprire la porta per chiamare aiuto, Hector la blocca riportandola dentro. Dopo averla legata ad una tubatura, inizia a dissezionare il corpo di Omid di fronte a lei. Quando gli chiede del figlio, Hector, senza giri di parole, le risponde di aver scaricato le sue ceneri giù per il water, e anche Lizzie, poco dopo, finisce nell'inceneritore. Non sentendola più da qualche giorno, Jay decide di andare a farle visita per assicurarsi che stia bene, ma capisce che ormai è da un po' di tempo che la donna non torna più a casa. Quando poi passa per casa di Hector, nota che la proprietà nel frattempo è stata venduta. Intrufolatosi nella villa, scende velocemente nel seminterrato, e dopo essere entrato nella stanza segreta, nota che è stato ripulito tutto. Tornato a casa, fa alcune ricerche, e scopre che Hector presenzierà la cerimonia commemorativa della sua vecchia scuola. Approfitta così dell'occasione per aspettarlo in macchina fuori dall'edificio. Una volta uscito, inizia a seguirlo fuori città fino ad arrivare ad un'altra proprietà dell'ex giudice. Jay aspetta che Hector abbia il tempo necessario per addormentarsi, e successivamente entra nella casa. Raggiunta la camera da letto, afferra la mazza da cricket vicino alla porta e si avvicina lentamente ad Hector. Tuttavia, i suoi passi fanno scricchiolare il pavimento, e l'uomo, svegliandosi, riesce a schivare i colpi di Jay. I due danno inizio ad un'intensa lotta senza esclusione di colpi, alla fine della quale però l'ex giudice ha la peggio. Raggiunto il garage, Jay sente dei rumori, e trova un'altra stanza segreta. Al suo interno c'è lo stesso ragazzo che aveva trovato Toby la prima volta, e mentre lo accompagna fuori lo assicura che i soccorsi sono per strada. Quando poco dopo la detective arriva sulla scena, trova Hector legato ed imbavagliato. Mentre lo guarda con uno sguardo compiaciuto, nota che sul muro dietro di lui è stato disegnato un graffito familiare.